benvenuto preparati per la meditazione mettiti seduto in una posizione comoda e ora chiudi gli occhi fai un bel respiro entra nel silenzio di te stesso assapora questo silenzio porta l'attenzione al tuo corpo e se per rilassarti meglio devi aggiustare la postura fallo pure osserva se la testa in una posizione di equilibrio dai attenzione alle tue spalle nello spazio senti se le braccia pendono lungo il corpo e se le dita delle mani vogliono distendersi un po di più percepisci come il bacino è appoggiato senti se le tue gambe hanno bisogno di rilassarsi e porta l'attenzione alle piante dei piedi e alle dita dei piedi dai attenzione all'interezza del tuo corpo sei in appoggio e sostenuto dalla terra e ora abbandonati completamente rilassato affidati al sostegno della terra porta l'attenzione al tuo respiro come se fossi uno spettatore e senti se c'è bisogno di modificarlo di amplificarlo lentamente ritorna osservarlo dai fiducia alla saggezza del tuo sistema che sa cosa è bene per te ora lentamente porta l'attenzione al centro del tuo petto all'altezza del tuo cuore porta lì il tuo respiro, un respiro consapevole da questo spazio immagina che una linea di luce si inalzi attraverso il collo e fuoriesca dalla sommità della testa verso il cielo e arrivi fino all'infinito allo stesso tempo mentre mantieni l'attenzione su questa linea di luce che dal petto va verso l'alto attraverso l'alto immagina una linea di luce che dal cuore va verso il basso attraversa l'addome, la pelvi fuoriesca dal perineo e arrivi fino al terreno e da qui in giù verso il centro della terra registra questa sensazione di connessione tra tuo centro il cuore la tua anima col cielo e la terra senti il sostegno che arriva dalla forza di padre cielo e di madre terra queste sono energie potenti della natura che si concentrano nel tuo cuore tu sei esattamente al centro continua a respirare continua a respirare e far espandere questa energia che dal cuore come un sole porta la luce dentro tutte le cellule del tuo corpo quando senti che questa luce ha pervarso tutto il centro del tuo corpo espandila, espandila ancora di più puoi provare ad andare oltre il tuo corpo oltre i confini materiali del tuo corpo immaginare un campo questo campo attorno a te si espande sempre di più questo campo piano piano ingloba tutto ciò che intorno a te riempiendo la stanza e tutto ciò che c'è dentro questo campo si espande oltre la stanza ingloba ogni cosa tutto ciò che c'è fuori dalla tua stanza immagina questa energia d'amore che è partita dal tuo cuore in connessione con le grandi forze della natura che si espande verso l'infinito abbracciando ogni essere vivente e non vivente tieni aperto il tuo cuore ad ogni cosa sospendendo ogni forma di giudizio ogni idea di giusto o sbagliato ogni idea di perfetto o imperfetto osserva semplicemente la danza della vita accogliendo qualsiasi cosa si possa manifestare il tuo cuore il tuo compito è accogliere all'interno dello spazio del tuo cuore ed ora lentamente ritorna qui iniziamo a muovere i piedi le dita delle mani fai ancora un bel respiro e dolcemente riapri gli occhi grazie a presto grazie a tutti a presto grazie a tutti Grazie a tutti.